Sensibilizzare i cittadini al problema delle malattie cerebrovascolari, in particolare di quelle che interessano le arterie. E questo è l'obiettivo dell'iniziativa Carotid in piazza nelle Marche, la giornata di prevenzione in programma sabato 11 giugno dalle ore 9 alle 15. L'evento si svolgerà in contemporanea nei comuni di Fano, Fabriano, Civita Nova Marche, Fermo e Ascoli Piceno. A Fano lo screening si terrà nella sala di Palazzo San Michele in via Orco d'Augusto II, ad opera del personale medico dell'unità operativa di medicina interna dell'azienda ospedaliera Marche Nord, diretta dal dottor Gabriele Frausini. È un'iniziativa nata dalle medicine interne delle Marche, con il supporto dell'azienda Marche Nord e del comune di Fano, per fare prevenzione. Noi sappiamo che la terosclerosi è la prima causa di malattie e di morte nel mondo occidentale. Riuscire a cogliere i primi segni di questa terosclerosi è fondamentale. Andremo a vedere le carotide delle persone che si presenteranno per vedere se sono normali, magari, o se c'è qualche segnale che si possa mettere sul chi va là e poter mettere a punto tutta una serie di misure che ci sono ed estremamente efficaci per evitare che la malattia vada avanti. Nella sala allestita per l'occasione i cittadini potranno sottoporsi gratuitamente all'eco color doppler delle carotidi. Un esame non invasivo, non sarà necessario l'appuntamento e al termine dello screening verrà rilasciato un documento con i risultati degli accertamenti effettuati. Nel caso in cui si rendesse necessario un approfondimento, il personale medico prenderà in carico il paziente e programmerà ulteriori esami nel reparto di medicina interna. Cercheremo di scaglionare un pochino le persone e cercare di evaderle in tempi utili. Sono due ecografi a disposizione, saremo in tre ad alternarci a fare questi esami, ma credo che sia un'esperienza estremamente importante. Grazie Grazie Grazie